Io sono stanca, sono stufa, siamo chiusi qua da 40 giorni, un mese di quarantena che siamo sempre chiusi qua dentro, sempre tu e io, io e te, tu e io, io sono stanca, sono stufa, mi annoio, io mi annoio, guarda, qua succedono sempre tante cose, io leggo, succedono sempre tante cose e qua siamo sempre soltanto io e te, io e te, tu e io, io annoio, sono stanca, sono stufa, buonanotte. Grazie.